Maledetto lupo, consuma dentro te con la tua rabbia, il eterno verranno agli due cozzi, questi risulgeranno del sepolcro col pugno chiuso. Subito drizzato, gridò, come dicesti, è lieve, non vivelli ancora, non fiere gli occhi sui lì, dolce lume. Turisti provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa hanno recitato i versi della Divina Commedia nelle grotte di Castellana, che nel weekend hanno omaggiato il padre della lingua italiana. Dalle 10 della mattina fino allo spettacolo Elling the Cave, rappresentazione dell'inferno di Dante nelle grotte di Castellana, estimatori amanti del sommo poeta, si sono susseguiti leggendo brani scelti tra tutti i campi della Divina Commedia per il Dante di... A te conviene tenere altro viaggio, rispose, poiché il lagrimar mi vide, se vuoi campare adesso loco selvaggio. Da dove viene? Da Roma. Dante le ricorda cosa? L'inferno. Dante rivive nelle grotte da 12 anni, da quando la grave si trasforma nei gironi dell'inferno, grazie allo spettacolo Elling the Cave, diretto da Enrico Romita, su drammaturgia di Giussi Fra Lonardo. Lo facciamo ogni anno, tra l'altro durante la pandemia il nostro Dante D è stato in assoluto il più visto al mondo e quindi siamo molto contenti. Ogni anno proviamo a fare qualcosa e quest'oggi sentite il chiasso che c'è all'ingresso del Visita alle Grotte perché gli spettatori, i visitatori delle grotte scusate, non gli spettatori, hanno proprio letto alcuni pezzi di questo meraviglioso testo che è la Divina Commedia, che è il nostro testo principale.